buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 19 novembre 2022 quindi vi auguro anche un buon weekend il tempo sarà incerto per questo fine settimana ma probabilmente peggiorerà ancora di più poi la prossima intanto vediamo subito l'almanaco per dare un'inquadrata alla nostra città oggi si festeggia a santa matilda di hackeborn una località della germania siamo con santa matilda nel tredicesimo secolo fu una santa si fece monaca in giovane età e fu maestra di gertrude un'altra santa cui insegnò veramente il misticismo di cui poi questa altra santa e eccelle personalità carismatica e di grande intelligenza santa matilda di hackeborn vediamo anche le previsioni del tempo abbiamo detto che il tempo si mostra incerto sulla regione marche vediamo subito la grafica e vediamo che sul territorio regionale si estenderanno nubi in progressivo aumento con piogge rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio sono previsti 41 millimetri di pioggia i venti sono moderati il mare poco mosso e le temperature calano ancora oscilleranno insomma cala la massima e aumenta un pochino la minima oscillano tra gli 11 e 16 gradi di temperatura ed ora apriamo i giornali non prima però di aver dato un'occhiata a quello che c'è all'esterno vediamo piazza 20 settembre con l'albero di natale e beh è un segno di speranza dopo tutte le disgrazie che sono capitate in questo periodo c'è anche ci sono anche gli stand del mercato che sono pronti a ricevere il pubblico che oggi speriamo che non piove affollerà tutto il centro storico di fano ed ora vediamo le pagine a partire dal resto del carlino sulla pagina fanese e vediamo come l'apertura è dedicata vediamo un attimo se la trovo subito l'apertura è dedicata ad anastasia sì perché perché domani sarà una giornata dedicata a lei a questa povera vittima che è fuggita dagli orrori della guerra dell'ucraina per venire in una località dove si dovrebbe vivere tranquillamente ma qui purtroppo ha avuto la morte è stata uccisa dal marito un uomo che era violento e dal quale si stava separando vediamo subito i titoli eccolo qua in piazza per anastasia si accendano le candele domani sfila per manifestare contro il femminicidio della giovane mamma la città di fano si parte dal pincio alle 17 e 30 appello a partecipare da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessore alle pari opportunità sarà cucchiarini una fiaccolata per anastasia è l'iniziativa lanciata appunto dal sindaco e dalla cucchiarini in memoria di questa 23enne uccisa dal marito in giovanissima età è una manifestazione pacifica per esprimere il cordoglio di un'intera città di fronte alla morte di una giovane donna e vediamo che tutto questo si inquadra anche nella giornata internazionale contro la violenza alle donne e proprio ieri l'assessore cucchiarini ha illustrato tutte le iniziative che poi si succederanno alla fiaccolata di domani vediamo che giovedì 24 novembre alle ore 11 al pari centro sarà inaugurata la mostra storia di donne sono 25 manifesti che sono stati realizzati dagli studenti della classe quarta c dell'istituto seneca del polo 3 che raccontano le loro emozioni anche la luce della morte di anastasia e poi ci saranno anche altre manifestazioni per esempio venerdì 25 novembre alle 9 e 30 ancora gli studenti saranno protagonisti del consiglio comunale monotematico che sarà organizzato nella sala verdi del teatro della fortuna il 30 novembre alla memo sarà presentato il convegno donne e salute mentale il 2 dicembre ci sarà una lettura animata per bambini al pari centro e domenica 4 dicembre lo spettacolo teatrale lo specchio dei tempi al cubo di san lazzaro queste le iniziative che verranno organizzate in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne e vediamo anche un risvolto della notizia dedicata ad anastasia vediamo qui una manifestazione che è stata organizzata ieri da tiziano busca e vito in serra sono andati in giro per il centro storico dicendo mi vergogno di essere maschio di fronte a quanto è accaduto un uomo ha ucciso un'altra donna una donna un ulteriore donna diciamo per anastasia e tutte le altre vittime di violenza e la stessa espressione aveva usato il sindaco massimo seri in consiglio comunale l'altro giorno quando ha commentato quando ha ricordato ha espresso il suo cordoglio per la morte di anastasia e ieri sono arrivate anche la mamma e la sorella di anastasia la mamma elena e l'altra figlia daria mentre il marito non ha potuto attraversare il confine del paese che in guerra le due donne hanno affrontato un viaggio lunghissimo in pullman partito dalla città di usorod al confine con la slovacchia e l'ungheria per rivedere appunto per l'ultima volta anastasia e per riabbracciare il nipotino che è stato affidato temporaneamente alla famiglia del deputato mirco carloni mamma e sorella della vittima sono giunti a fano ieri in tarda mattinata accolte in una casa del centro messa a disposizione di un privato che ha preferito così mantenere l'anonimato e dunque partita la gara di solidarietà per non fare mancare nulla alle due donne sono già state reperite lenzuola e coperte mancano però gli asciugamani e altri elementi indispensabili per così per chi vive e casa la vita quotidiana chi volesse aiutarlo può farlo chiedendo informazioni al paricentro in via montevecchio la notizia viene riportata anche sul corriere adriatico vediamo qua il titolo sono arrivate madre e sorella di anastasia sfinite dal viaggio un lungo viaggio e sconvolte dal dolore accolte da connazionali e la comunità ucraina presente a fano all'arrivo l'assessore cucchiarini le ha sentite al telefono cordone di riservo per proteggere non viene indicato l'appartamento dove attualmente soggiornano per così fare sì che esse vivano il loro momento di dolore e con concentrazione senza appunto essere distratte da altre situazioni dunque vediamo ancora ci sono due commenti qui al lato dell'articolo per le due donne subito contattate subito contattate subito sono contatti con la procura e il tribunale dei minori per l'affido del nipotino e poi c'è anche una dichiarazione del sindaco sarebbe bello che alla fiaccolata ci sia un musicista che suoni il piano quel piano che era una delle passioni insieme al canto di anastasia villaggio ora parliamo dei presepi villaggio via dei presepi e pista natale si accende il 27 novembre ieri sono stati presentati gli appuntamenti tra il pincio e la piazza meno luci e più cultura questo il titolo che appare sul corriere adriatico lo vediamo anche sul resto del carlino gli eventi natalizi tornano in pista in pista anche perché c'è anche la pista di ghiaccio vicino nel parcheggio vicino alla rocca malatestiana il parcheggio dell'ex caserma montevecchio anche il circuito di ghiaccio tra le iniziative al pincio sorgeranno il villaggio e la casetta per i doni e beh nonostante tutto è natale dice il corriere adriatico nonostante tutto perché oltre il covid oltre le difficoltà economiche costituite dall'aumento veramente molto molto alto delle bollette nonostante il terremoto nonostante quello che accade in questi giorni con la morte della povera anastasia e anche con la morte di una signora che tranquillamente camminava per strada e stata investita da un tir insomma sono veramente situazioni atroce nonostante tutto tra poco e natale ebbene un simbolo di speranza di rinascita è costituito da quell'albero che è stato eretto in piazza 20 settembre e che verrà acceso il 27 novembre prossimo domenica prossima non domani l'altra successiva per dare inizio a quello che può essere una nuova atmosfera quella natalizia quella che dovrebbe essere dedicata più a un desiderio di pace e di tranquillità e vediamo quali sono un po le notizie le iniziative che verranno organizzate ieri le ha esposte l'assessore agli eventi etienne lucarelli insieme all'assessore alla cultura cora fattori che però si riserverà di fare un altro appuntamento per così esporre le iniziative più impregnate di cultura l'accensione dell'albero di natale donato quest'anno dalla famiglia ciucciarelli aprirà ufficialmente domenica 27 novembre alle ore 17 e 30 in piazza 20 settembre il natale più questo appunto è il titolo che viene dato alle manifestazioni poi dal giorno precedente il sabato verrà inaugurato il villaggio natalizio al pincio una ventina di casette che esporranno tanti tanti prodotti che costituiranno l'occasione per fare i regali natalizi e poi ci sono i presepi fanno comincia ad essere una città importante per il presepi tre presepi soprattutto il presepio dei carristi al pincio che verrà così corredato di nuove state queste statue quest'anno di cui una addirittura in movimento speriamo che non sia vandalizzata come accaduto negli anni scorsi e poi c'è il presepe di san marco questa grande monumentale costruzione che in 21 anni ha realizzato don marco polverari che mano a mano ogni anno si aggiunge di un diorama in più sono ora 250 i diorami che esprimono il messaggio della salvezza a palazzo fabbri in via mura sangallo a fano diceva don marco è riduttivo chiamarlo presepe perché non è solo il simbolo il segno della natività ma c'è tutta la bibbia raccolta in questa grotta sotterranea molto molto suggestiva a visitarsi ed è un'attrattiva turistica molto interessante sfruttata dalle agenzie di viaggio un altro presepe da visitare sarà senz'altro quello allestito nella chiesa di san giuseppe al porto un presepe di carattere marinaro che anche questo quest'anno ogni anno cambia ma quest'anno viene ancora ampliato e allargato sempre più è stato realizzato da rolando gasparori le luci natalizie le luci natalizie saranno un po ridimensionate quest'anno per l'alto costo dell'energia elettrica ma verranno allestite anche sono già cominciate ad essere allestite nel corso cittadino in via arco d'augusto in piazza 20 settembre in piazza costanzi e appunto al pincio gli ingressi della città saranno corredati da stelle comete in segno di accoglienza e poi ogni giorno dalle 27 in poi ci saranno iniziative di tutte le associazioni in piazza 20 settembre ci sarà l'avis ci sarà il fanno jazz winter con tante iniziative ci saranno spettacoli esibizioni di cori insomma un natale che almeno possa un po alleviare i dolori che questo fine d'anno ci ha assegnato vediamo ora le altre notizie lunedì mattina si celebreranno i funerali della donna morta schiacciata da un camion si tratta di teresa de matteis 74 anni travolta e uccisa da un camion giovedì pomeriggio nella zona industriale di bellocchi i funerali saranno celebrati lunedì alle 9 nella parrocchia della santa famiglia nel quartiere di fano 2 intanto la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale santa croce dove è stata ricomposta appunto dice il giornale passiamo ora a colli al metauro scuola adesi ancora chiusa dopo sei anni si tratta di una scuola elementare la scuola elementare di saltara alessandra accadem del gruppo della minoranza evidenzia questa situazione di fatto e dice che è la ferita più grave del comune ora basta le promesse occorrono i fatti infatti sono già passati sei anni dalla sua chiusura e non si sa neanche se gli allunni potranno frequentare potranno rientrare in questo edificio nel settembre del 2023 ovvero nel prossimo anno scolastico la primaria desi è la più grave ferita di colli al metauro ha dichiarato appunto la esponente del gruppo di minoranza a pergola si fa il focus sul rischio idrogeologico il liceo torelli al tavolo con gli esperti territori e rischio idrogeologico e l'interessante iniziativa organizzata per questa mattina dalle liceo scientifico torelli di pergola che si terrà al teatro angel dal foco alle ore dalle 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 ore 10 alle ore 13 si tratta di un focus sulle problematiche ambientali a poco più di due mesi dal disastrosa alluvione che ha colpito gravemente anche la città dei bronzi e siamo ad urbino presidente ancona da qui appare lontana è stato detto al presidente del consiglio regionale dino latini che ha fatto una visita nella città ducale dino latini è alla guida dell'assemblea regionale ospite ieri del consiglio comunale urbinate è stata la prima volta di questa visita di questa presenza così ieri dino latini ha parlato nella sala sappieri su un tema importante come la democrazia rappresentativa e l'attualità locale in chiusura ha consegnato al sindaco una proposta di legge proprio per urbino come centro di storia di arte rinascimentale e città degli aquiloni una proposta di legge che valorizza tutto l'assetto circolare della città urbinate il governo meloni dimentica la fano grosseto non è una priorità a una linea che va su poi torna giù poi ritorna su poi ritorna giù e rimane in basso e sta fano grosseto sembra che da momento all'altro debba così rinascere debbono ricominciare i lavori poi tutto si ferma e si ricomincia da capo il ministro delle infrastrutture elencando le opere da realizzare ne cita molte a partire dal ponte sullo stretto ma non la due mari la tirreno adriatico nulla da fare ancora per la fano grosseto e chissà quanto potremo vederla intanto cantiano ancora piange piange per i danni che ha ricevuto dalle alluvioni e il resto del calino pubblica un'ulteriore foto del disastro che si è verificato in questo centro pre appenninico vediamo quanto fango e quante macerie si sono addensate nelle strade malgrado i ponti e gli argini in muratura risalenti agli anni 30 il burano continua ad essere un pericolo continuo negli anni 30 abbiamo visto nei giorni scorsi come e quante opere sono state fatte per imbrigliare la furia del torrente ma ancora questo continua a seminare danni cantiano e le sue tante alluvioni che sembrano incontrollabili dice il resto del calino vediamo anche le pagine pesaresi del giornale e vediamo come qui si rievoca no si rievoca si fa la cronaca del progetto del processo è di nuovo iniziato è il processo bis nei confronti di coloro che hanno scatenato la furia che hanno scatenato l'uscita incontrollata di tutti coloro che erano presenti nella discoteca lanterna azzurra di corinaldo gli amici e la maglietta di benni stretta in mano processo troppo lento così è una vergogna sono gli amici questi di benedetta vitali li vediamo qui nella fotografia questo è il titolo che appare sul giornale vediamo gli amici di benedetta che mostrano una maglietta con il viso con l'immagine della ragazza fanese deceduta qua vediamo il fratello francesco e che appunto partecipa a questa a questa al processo insomma all'udienza ebbene ed è veramente con il cuore che questi ragazzi partecipano a questa iniziativa però all'ingresso del tribunale dobbiamo dire che la vigilanza della struttura non ha consentito ai ragazzi di entrare con la maglietta al seguito e quindi è stata sequestrata l'avvocato eriene ciani che rappresenta la famiglia vitali ha dovuto metterla in busta e consegnarla al vigilante con grande disappunto e dice l'avvocato perché questi ragazzi volevano presentare solo un ricordo un qualcosa di tangibile e cara che esprimesse il loro la loro profonda amicizia con benedetta e beh questa è una vicenda che ormai si protrae oltre ogni limite stati generali del turismo ricci dalla carica coinvolgeremo ogni comune della provincia ha detto Fano è un po' di rimpetto è un po' a seguito della città di Pesaro per quanto riguarda tutte le iniziative che riguardano poi la capitale nazionale della cultura coinvolgeremo ogni comune della provincia quindi Fano Urbino Mondavio insomma tutti i comuni che possono ospitare degli eventi di carattere culturale l'appuntamento ovviamente per il 2024 e ieri il sindaco Ricci ha esposto una raffica di eventi e di mostre super come quella su Dalla Pesaro soprattutto terra di piloti e motori e città della musica Unesco sono questi gli aspetti su cui si concentreranno le iniziative poi ne saranno ovviamente tante tante altre come una ricchezza archeologica di carattere culturale documentale veramente importante che potrebbe attirare tanti appassionati nella città e nel territorio pesarese ed ora parliamo di sanità parliamo di sanità perché scadono altri contratti 100 posti sono a rischio e non vengono a momento rinnovati la regione ha bloccato le proroghe al 31 dicembre e questo ha scatenato la rabbia dei sindacati i soldi ci sono perché il problema non è stato affrontato prima punto in interrogativo lo dicono i sindacati ebbene sono 100 i professionisti impiegati in tutti i reparti della sanità dell'azienda ospedaliera Marche Nord e dell'Azur per quanto riguarda il territorio ovvero l'area vasta 1 che rischiano di trovare sotto l'albero di Natale la lettera di licenziamento una perdita che arriverà a quota 200 in primavera se non ci si rimetterà a riparo a casa dal primo gennaio bel modo di ringraziare gli eroi che sono stati magnificati durante il periodo del covid e qui vediamo un lutto vediamo un lutto viene dato l'addio al naturalista che regalava meraviglie si tratta di Pandolfi di Massimo Pandolfi 78 anni deceduto in seguito ad un male che non perdona ha lottato fino all'ultimo le ultime parole alla moglie dice non ce la faccio più ha lottato veramente fino all'estremo e qui vediamo il cordoglio che esprime anche il resto del Carlino in merito a questa perdita ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico abbiamo visto l'apertura dedicata ad Anastasia e all'arrivo della sorella e della mamma appunto di questa ragazza ucraina abbiamo visto anche l'articolo che riguarda le iniziative natalizie il Natale salcenderà il 27 novembre e vediamo invece un articolo a fondo pagina che riguarda il terremoto si riguarda il terremoto ma anche i danni che il tempo ha provocato sulle mura della Rocca Malatestiana ebbene la Giunta ha approvato il progetto per quanto riguarda la riparazione di questi danni sono interventi che devono essere fatti urgentemente perché è proprio quella muraglia che prospetta verso la linea ferroviaria della Rocca chissà se si farà subito qui dice tra due anni e tra due anni sono un tempo molto molto lontano un anno e mezzo per un intervento classificato di somma urgenza pare quasi un controsenso in realtà scontato che alla fine ce ne vogliono addirittura un paio quindi non un anno e mezzo appurato che per la messa in sicurezza della parete da Rocca Malatestiana che si affaccia sulla ferrovia siamo solo all'approvazione iniziale del progetto definitivo e per il completamento dell'operazione sono stati comunque calcolati quattro mesi e ci vorrà ancora del tempo per vedere allestito il cantiere e beh se ne parla dall'aprile del 2021 di mettere in sicurezza questa parte della Rocca a Fossombrone la grande musica esce dall'oblio Bogdanovic ripropone Torricelli il violinista e il pianista di Anello in concerto sulle orme dell'artista forse empronese si tratta di un concerto che verrà organizzato domani alle 18.30 nella chiesa di San Filippo a Cantiano si perde sul Catria e cade nel Canalone salvato nella notte dopo ore di ricerca si tratta di un escursionista un anziano di 77 anni che si era perso giovedì notte nella zona di Monte Acuto l'anziano residente nella frazione di Smirra di Cagli era impegnato in un'escursione piuttosto complessa intanto doveva percorrere i sentieri di montagna per recogliere i funghi insomma si è inoltrato in un luogo che forse non conosceva molto bene e non è più riuscito a ritrovare la strada del ritorno per fortuna è stato trovato ed era già in stato di ipotermia il freddo si faceva sentire e poi anche sulla pagina di Ancona il Corriere Adriatico parla della manifestazione degli amici di Benedetta che hanno mostrato le maglie con il ritratto della ragazza primi testimoni nel filone dei colletti bianchi le amiche di Benedetta Corinaldo è stato un incubo anche loro erano presenti durante questo concerto che poi è finito in una tragedia con tante e tante morti passiamo ora alla pagina di Pesaro pubblicata dal Corriere Adriatico vediamo che sono rientrati i primi sfollati per i danni che alcune emergenze edilizie così possiamo chiamarle come il fumaiolo dell'elaboratorio Molaroni che era pericolante rientrati i primi sfollati ma i danni aumentano e il sindaco Matteo Ricci che prima aveva valutato i danni che sono stati riportati dal patrimonio pubblico e privato in 20 milioni ora alza la cifra a 50 milioni ne è convinto il sindaco che poi si mostra anche arrabbiato per la mancata richiesta dello stato di emergenza da parte della Regione e pensa che sia una discriminazione di carattere politico si vuole così non valutare nella giusta misura quei comuni che hanno una giunta diversa dal punto di vista politico di quella regionale anche 47 alloggi popolari saranno messi in sicurezza lavori antisismici grazie al PNRR ci cercano sistemazioni per gli inquilini vediamo anche qualche notizia di sport vediamo che la Visse si appresta a sostenere un confronto da derby con la fermana Sassarini dalla carica è un derby da vincere dice il tecnico biancorosso Fano invece esordo un altro derby esodo esodo per il derby in 200 a Senigallia quindi grande affluenza dei tifosi nella città vicina per sostenere in Granata in questa partita i tifosi dei Gleb mobilitati per la trasferta più vicina con in paglio punti playoff e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi auguro un buon weekend e noi ci risentiremo lunedì prossimo alle ore 7 intanto vi auguro una buona giornata e quindi vi saluto cordialmente a risentirci a risposi